Calciolino di Venezia, con numero 1 Ballarini, 2 Ruzzene, 3 Trivellato, 4 Rossi, 5 Pianello, 6 Bianchi, 7 Cappellotto, 8 Scalabrin, 9 Boldrin, 10 Fabris, 11 Piccolo. A disposizione del natore signor Alessandro Storelli, con numero 12 Ballarini Nicolò, 13 Torretti Alvise, 14 Pistorello, 15 Torretti Barnaba, 16 Padrin Samoene, 17 Fetti Rossi, 18 Foccardi. Comune Sportivo Città di Mila, con numero 1 Rossetti Michele, 2 Vidal Dennis, 3 Castellani Federico, 4 Dario Giulio, 5 Daggio Andrew, 6 Feliciano Alexander, 7 Negro Francesco, 8 Cadegari Fabio, 9 Novi Mirko, 10 Tramarin Gianluca, 11 Camarà Malang. A disposizione del natore signor Alberto Saletti, con numero 12 Reato Moreno, 13 Meggiato Federico, 14 Meggiato Marco, 15 Cardo Marco, 16 Liviero Giacomo, 17 Borgacci Gianluca, 18 Mito Sebastiano, 19 Rampa Lorenzo, 20 Lecchiato Riccardo. Dirige l'incontro, l'ambito del signor Federico Siglio, della sezione di Este, agli sportivi, buon divertimento. Grazie. 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 e sui libri di te Fabio, salve sto voi, Fabio! Fabio, salve sto voi, Fabio, salve sto voi, Fabio, salve sto voi, Fabio! Fabio, salve sto voi, 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 Fabio, salve sto voi Grazie! 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 Allora faccio leggero, però la gira! Oh! 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 E se calciamano a fare la gol? No, diciamo che se la tirava forte... Perchè un po' forte, poteva fare con.... Venga... Venga girada. Non mi piace male. Senta se blocco. Sì... È ora... Ho fatto parole per le scelte. Votte male. Faccio dietro a te... il giro è tutto roccio e la cadere di pesine e finitemi pure tu ma com'è che ti ha dato un po' di pianta di mani? si primo distributore il giro è un po' di pesine va e giugno e giugno e giugno e giugno e giugno signora i caffè sei che non ti ha visto l'occasione è sì oggi si è che sei che sei che sei che sei che ti ha visto è ora è ora è ora è ora è 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 buongiorno a tutti il è è bello ragazzi Grazie a tutti. 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 Gnocchi. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti